Si apre l'udienza preliminare contro il Sicania Resort per inquinamento ambientale e deturpamento di bellezze naturali. Il WWF si è costituito parte civile. Con il parere favorevole al PM Ubaldo Leo, il giudice Mari Camarino l'ha accolta, ritenendo l'associazione ambientalista legittimata a costituirsi. Nel 2018 la procura di Gela avviò un'indagine accertando che per realizzare l'area balneare del villaggio turistico furono sbancate e distrutte le dune costiere e la macchia mediterranea, con grave danno ambientale, ecologico, florofaunistico e paesaggistico all'interno del cosiddetto SIC, il sito di importanza comunitaria Torre di Manfria, area protetta e sottoposta a vincolo naturalistico. Il Resort fu sequestrato dalla Guardia di Finanza, che accertò anche la violazione delle prescrizioni inserite nelle concessioni ed autorizzazioni rilasciate sia dal Comune di Butera che dall'assessorato territorio ed ambiente della regione siciliana. È la prima volta che il WWF viene riconosciuto come parte civile in un processo del Tribunale di Gela, ha commentato l'Avvocato Salvatore Patri. Inoltre il WWF potrà attivamente collaborare con la giustizia e concorrere all'accertamento in dibattimento della verità e delle eventuali responsabilità degli imputati. In caso di condanna, il WWF chiederà anche un esercimento dei danni patiti dalla stessa associazione. Il giorno del sequestro, la Procura di Gela sottolineò come quella zona fosse sottoposta ad un doppio vincolo di tutela. Le dune andavano superate con passerelle e questo non è mai avvenuto. La vegetazione venne completamente distrutta con danni alla zona dunale e retrodunale. I consulenti hanno ammesso che serviranno circa 15 anni per ripristinare quell'ecosistema. Grazie. 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 Grazie.